Passa definitivamente nelle casse dello Stato il patrimonio riconducibile a un 48enne nisseno, del quale non sono state fornite le generalità, che ha diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nel dettaglio si tratta di 5 beni immobili e 3 rapporti finanziari per un valore complessivo stimato intorno ai 150.000 euro. Il provvedimento di confisca, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, è stato eseguito dai poliziotti della divisione anticrimine. Grazie.